L'Arcivescovo Metropolita di Foggia Bovino, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Pelvi, per sottolineare il grande impegno verso chi soffre svolto dagli operatori sanitari, ha desiderato che l'evento diocesano per la trentesima giornata del malato dell'11 febbraio 2022 si tenesse presso il Policlinico Riuniti di Foggia, facendo proprie le parole di Papa Francesco, che ricorda che il malato è sempre più importante della sua malattia e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall'ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie e delle sue paure. E anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, consolare, far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia, cosicché gli ospedali e ogni luogo di cura divengono locande del buon samaritano, case di misericordia. Sua Eccellenza stamani ha preseduto la celebrazione eucaristica presso la Chiesa San Giovanni di Dio del Nosocomio, a conclusione della quale, insieme ai cappellani ospedalieri, ha pronunciato la preghiera di atto di affidamento alla Vergine di Lourdes per tutti gli ammalati e i sofferenti, gli operatori sanitari, le loro famiglie. Il messaggio di fondo è che gli ammalati non siano persone da scartare, persone da evitare, persone che qualche volta per stanchezza non riusciamo ad accogliere, stare accanto, stare vicino, perché la prima medicina è quella delle carezze, è quella dell'accoglienza. Per cui in questa giornata a scuola di Papa Francesco, che ci invita a guardare i malati come la carne stessa di Cristo misericordioso, vogliamo fermarci e imparare come Gesù e da Gesù a toccare la carne vivente.